A Daci Reale l'estate sembra essere arrivata anche per la politica, mentre il sindaco in vacanza ci pensa a Torrisi ad animare il dibattito. Le polemiche infatti vertono sui risultati della quarta commissione. Lo scontro è tra il consiglio di Torrisi e il presidente della commissione Monaco. Non ho condiviso quella conferenza stampa fatta dal presidente Monaco, credo per l'inesperienza politica, che ha voluto fare la sua relazione invece che la relazione di tutta la commissione. Ho fatto una relazione del presidente perché non ho avuto l'unanimità della commissione grazie al consigliere Torrisi, perché tutti gli altri membri, la commissione è formata da cinque consiglieri, quindi siamo d'accordo sull'iter che abbiamo seguito. L'unico, ovviamente, ma non è una novità, è stato il consigliere Torrisi. La cosa gravissima che io non posso accettare, io ho il dovere di non denunciare, ma di informare tutte le autorità, nonché i genitori, è che noi abbiamo le scuole senza agibilità. La stramaggioranza di questi non ha l'agibilità, cosa che dovrebbe avere ogni fabbricato, perché proprio in tenno possa avere delle persone. Noi mantiamo i nostri bambini nelle scuole e non hanno l'agibilità. E ancora la cosa più grave, non c'è la messa a norma di tutte quelle cose che dovrebbero essere messe a norma, come gas, acqua, luci e così via. Nella stramaggioranza non c'è la messa a norma. Riguardante la problematica delle scuole, in commissione abbiamo deciso di seguire una strada, che è quella del lavoro proprio della commissione, che è un lavoro propositivo e costruttivo. Cioè, se ci sono dei problemi, noi dobbiamo cercare in qualche modo di andarli a risolvere. Non possiamo metterci ogni volta a criticare, criticare, criticare. I problemi vanno risolti perché l'agenda si aspetta risposte, non critiche. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti i verbali, firmati da tutti i componenti, e li abbiamo inviati all'organo che ci presiede fondamentalmente, che è la presidenza del Consiglio. Dopodiché abbiamo inviato per conoscenza sia al sindaco che all'assessore tutti questi verbali, e abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Comunale una seduta dove si dovrà discutere esclusivamente del problema scuole. Questo perché? Perché noi vogliamo, ecco dove è il fatto di essere propositivi e costruttivi, vogliamo portare a conoscenza degli altri consiglieri qual è la problematica, vedere un attimino se nel bilancio possiamo inserire qualcosa in più da destinare alle nostre scuole in modo tale che i problemi vengano risolti, invece di fare sempre e solo critiche.